Ciao a tutti, io sono Yurich83, benvenuti sul canale. Hideo Kojima era presente al Tokyo Game Show 2024 in un evento dedicato di 90 minuti, chiamato Death Stranding 2 Special Stage. In questo evento Kojima ha parlato del gioco e ha presentato delle nuove clip, mostrando un pochettino alcune scene inedite del gioco. In questo video andremo ad analizzare questi video e scopriremo nuovi dettagli dove ci saranno conferme e smentite in merito ad alcune teorie relative a Death Stranding 2 on the beach. Sappiamo perfettamente che Kojima è un personaggio molto criptico in quello che vuol mostrare, quindi andremo un pochettino anche per teorie su quello che potrebbe essere, quello che ci potrà aspettare nel seguito di Death Stranding. Se siete incuriositi da Hideo Kojima e gli altri suoi giochi, le sue curiosità, ho fatto altre video analisi su Death Stranding 2 e OD, l'altro gioco che è in sviluppo. Vi lascio qui sotto nei commenti in descrizione dove recuperare i video e scoprire altre curiosità. Ah, mi dimenticavo, prima di iniziare iscrivetevi e seguitemi sui miei social. Partiamo subito da una conferma. Tutti i personaggi in Death Stranding 2 sono dotati di questo anello, esattamente come nel primo Death Stranding esistevano le manette, fungevano sia da sistema per ottenere contratti, ma anche come sistema di comunicazione. Vi ricordiamo che alla fine di Death Stranding 1, Fragile si stacca da Yuka per fondare la sua società, che è sempre legata a Yuka. Qua possiamo avere la conferma che non solo Fragile che Sam, ma anche gli altri personaggi hanno un anello al dito. In questo video possiamo vedere Fragile accompagnare Sam sul ponte di bordo e presentargli Tarman. Il volto di Tarman è quello di George Miller e sappiamo che lui è il comandante della DHB Magellan, questa nave in grado di spostarsi tra il mondo normale e la spiaggia. Come facciamo a intuire questa cosa? Il fatto che ogni personaggio presente sia in scala di grigio. Ve ne ho già parlato nel video precedente. La dimostrazione è che ogni personaggio, e questo l'avevamo visto anche in Death Stranding 1, quando entrano nella spiaggia, entrano in questa gradazione di grigio. Se non siete ancora convinti della mia teoria che la DHB Magellan sia in grado di fare questo, potete vedere qui sulla destra un olo proiettore che mostra l'attraversamento di balene, esattamente come nella spiaggia. Lu, dal primissimo video di Death Stranding 2, abbiamo pensato venga uccisa mentre Fragile scappa con lei. Proseguendo nel video rilasciato, possiamo vedere un BB pod a terra, ed è Sam che va a raccoglierlo e pronuncia proprio il nome di Lu. Però quello che è presente all'interno del BB pod non è un bambino, come potevamo vedere nel primo Death Stranding, ma è un bambino con i tratti delle CA. Quindi che cosa sta facendo Sam in Death Stranding 2? Sta andando a cercare Lu nelle spiagge? Questa potrebbe essere una possibile teoria. In un altro video possiamo vedere il ritorno di Hartman. Sappiamo che il suo volto è preso da Refn, il regista amico di Diokojima. In questo video possiamo vedere che Hartman ha un pochettino rivoluzionato la propria vita. Partiamo dal fatto che ha questo sistema di supporto che un pochettino lo vincola sia a livello di schiena sia a livello di gambe, in modo tale che se dovesse addormentarsi per quei famosi 20 minuti al giorno e rimanere in vita per altri tre, lui possa tranquillamente piazzarsi ovunque si trovi. Questo lo facilita sicuramente. Nei primi frame potete vedere uno scenario esterno, luce, sole e le montagne sembrano ricordare quelle di un canyon. Mentre dopo vedete Hartman aprire un finestrone. Lo scenario è chiaramente tra le montagne di Mount Not City. Se conoscete un pochettino Kojima sapete perfettamente che in passato ha finanziato, o comunque ha dato la sua approvazione per un progetto simile, ovvero finestre che possono rappresentare qualunque scenario a vostra scelta. Nella scena possiamo vedere Hartman che sta digitando una sorta di coordinate. Quindi do per scontato che lui possa mostrare su questo grosso finestrone ogni scenario che lui voglia vedere. Quindi non sappiamo con precisione dove si trova in questo momento Hartman all'interno del mondo di Death Stranding 2. Il video tra Norman Reedus, Elf Hanning e Sholi Kutsuna è sicuramente quello più enigmatico. Ma abbiamo finalmente la risposta a delle domande. Sholi Kutsuna e il suo personaggio si chiama Rainy, mentre invece il personaggio di Elf Hanning si chiama Tomorrow. Questa è una scena rilassata, decontestualizzata, mentre arriva il personaggio di Norman Reedus in compagnia di Dolman. Le due ragazze stanno sistemando delle scatole, finché ad un certo punto Elf Hanning inizia a cantare Raindrops Keep Falling On My Head di B.J. Thomas. Il motivo? Perché Rainy è in dolce attesa, quindi probabilmente vuol far rilassare il bambino che porta con sé. Sono stati confermati i personaggi. Io avevo parlato in passato che Elf Hanning o E. Sholi Kutsuna potessero essere il personaggio di Lu, adulto. In realtà questo video smentisce la mia teoria. In realtà non è così, perché in Death Stranding 1 Hartman parlava sia di Baha e il Ka, intesi come corpo e anima nella mitologia egizia. E se la frase Tomorrow Ignorance fosse riferita a lei? Il video musicale di Horizon Dreamer di Daichi Miura è proprio in stile Kojima. Presenta solamente una delle soundtrack che saranno all'interno del gioco di Death Stranding 2. Il video tra Fragile, Tomorrow e Rainy viene chiaramente specificato da Hideo Kojima stesso che se verrà effettuato tramite la photo mode uno scatto in una determinata posa ritraendo un momento specifico potrà essere sbloccato un dialogo nascosto. Hideo Kojima ha anche detto che Death Stranding 2 sarà sicuramente un progetto più difficile da capire rispetto a Death Stranding 1. Quindi già da questi video ho sicuramente tirato fuori il massimo che si poteva fare. Le altre cose sono sicuramente teorie e speculazioni però c'è ancora molto molto da trovare. Secondo me sarà difficile ancora da capire cosa nasconde Death Stranding 2 on the beach ma finché non verrà rilasciato un nuovo video questo è il massimo che possiamo fare in questo momento. Se il video vi è piaciuto fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate le vostre teorie e chissà se questo video avrà abbastanza visual potrei fare un nuovo video.